Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo approfondimento. Ritorna nei nostri studi qui dopo il successo della puntata precedente che parlava di come riportare a nuova vita una pianta che ormai all'apparenza era destinata a purtroppo una brutta fine. Sauro Allegrezza, ben ritrovato Sauro. Sauro Allegrezza, tecnico fitoiatra del Consorzio Agrario di Ancona. Allora, insomma, ormai hai preso l'abitudine di venire qui a trovarsi. Grazie di avermi accettato. No, ma tu hai sempre delle argomentazioni estremamente interessanti che catturano molto l'attenzione dei nostri telespettatori perché parli di cose che hanno a che fare con la natura, con le coltivazioni, col green e quindi sono tutte argomentazioni di grande interesse. Però quest'oggi, questa sera, tu ci vuoi parlare di coltivazione. Una coltivazione particolare, l'abbiamo vista nel titolo, la colza. Il colza. Il colza. Il colza. Il colza. Sono il direttore. Il colza. Perché ci tieni a parlare di questa cultivar così particolarmente significativa per la nostra agricoltura? Ha un suo perché? Sì, allora io volevo premettere che stiamo andando dopo la perdita delle bietole da zucchero. Noi non abbiamo più culture da rinnovo. Il colza è una cultura da rinnovo, una cultura miglioratrice, una cultura che lascia 20 unità d'azoto sul terreno, una cultura che si semina presto, quindi non subisce elasticità invernale, si elimina presto, ma soprattutto fa reddito. Quest'anno la stagione non è stata fra le più favorevoli. Diciamo che le produzioni sono andate dai 27 ai 35 quintali ad ettero. Però il prezzo è stato non male, ha preso sicuramente più del grano. Noi come Consorzio Agrario di Ancona siamo 3 euro più alti al quintale rispetto alla concorrenza sul prezzo di mercato, quindi siamo una realtà solida. Adesso io non è che sono di parte, ma sono fra le più solide che ci sono in zona. È una cooperativa, non ha scopro di lucro, ha tecnici validi, tecnici presi anche dal pesarese. Siamo una bella realtà, siamo. E ogni nostro consiglio non è mai un consiglio dato a caso o fatto per vendere. Cioè lo scopo nostro finale è di fare in modo che l'agricoltore raccolga. Perché se l'agricoltore non raccoglie non paga le bollette e quindi va male a tutti, va male. Siamo molto attenti a questi qui e investiamo molto in ricerca e tecnologia. E siamo qui per questi. Per questo, insomma, non è che vediamo a fare la trasmissione sul Colza, perché già considerate che già su Fano, se ne avete 50 ettri qui a Fano, i nomi non si possono fare, ma Pucci a Tiglio, su IG Marco da Fossombrone, Mascioli, aziende d'elite, aziende che fanno bilancio, sanno quello che fanno. Quindi il futuro c'è. Considerate anche che il Colza percepisce 100 euro di più all'anno sulla PAC come il girasole. Però ti allunga il ciclo del girasole, perché il girasole andrebbe ogni 4 anni sul terreno, se no non si raccoglie. Quindi praticamente diventa un gioco forza ruotare queste culture, altrimenti non raccogli né grano né girasole. Poco grano e poco girasole. Quindi dopo ognuno cerca la varietà migliore del girasole o altro. Ma se tu allunghi il ciclo, grano, orzo, colza, grano, orzo, girasole, o poi togli anche l'orzo comunque sia, però comunque sia vai ad allungare 4 anni il periodo e riesci a far vivere gli agricoltori. Ma perché sono qui io? Non tanto per fare l'estensione dei 50-100 ettri o altro, ma anche perché gli agricoltori che non hanno alternative, qui a Fano c'è Vittorio Palazzi che ha le culture d'assieme, è un'ottima alternativa quando ce l'ha. Però se non ce l'ha, una soluzione bioclatrovi. Quindi vai o sul colza, che comunque si è, ti garantisce un 1.100-1.200 euro di PLV contro 700 euro di spese, questa è la spesa della colza, quindi ti lascia 500 euro, 400 euro, 500 euro in base all'annata, è chiaro, di reddito, più la PAC, la PAC che diventa 3-400 ettari, euro scusi, e quindi diviene fuori 900 euro, 500, 800 euro elettro, ti rimangono con il colza. E in più, quando vai a riseminare, puoi fare una minima lavorazione per seminare il grano, quindi risparmi carburante per la terra, i danno a sfinata e i ripianti dopo la colza. E non so cosa ti poco conto, perché alla fine uno diventa, è come il miscelatore che fa il mangime, cioè ogni piccolo elemento alla fine ti fa la spesa che hai sostenuto alla fine dell'anno e ti permette di vivere decentemente, perché non è più come 40 anni fa, che non c'erano i bisogni, adesso ci abbiamo i bisogni, se parlo di termini astrusi... No, io ti sto ascoltando con estrema attenzione, perché sono argomentazioni affascinanti, però più che entrare nel dettaglio tecnico, facciamo capire anche a casa i nostri telespettatori che magari non sono così addentro nell'argomentazione tecnica. Però se ascolta l'agricoltore lui capisce subito al volo. Esatto, l'agricoltore ascolta e capisce al volo, però facciamo capire anche il perché è utile alternare questa cultura del colza alle culture tradizionali come il grano e il mais, cioè che cos'è la rotazione, facciamolo capire anche ai nostri spettatori. La rotazione fa in modo che comunque sia i funghi che trasmettono le varie piante, il grano trasmette dei funghi, il girassolo trasmette dei funghi, la colza trasmette dei funghi, se la pianta... Te la faccio più semplice, pianti pomodori, pianti peperoni, pianti melanzane, sono tre frutti diversi della stessa famiglia, ognuno ha le stesse malattie, se tu pianti peperoni, melanzane e pomodori non raccogli niente, perché si ammalano... Tutto e tre. Sì, perché non hai girato i funghi. Esatto. Questo lavoro qui lo devi fare con il colza, con il girassolo e con il grano e con l'orzo. Devi allungare le malattie che ci possono essere, perché dopo qualche malattia dura di più, ma di solito in quattro anni hai bonificato il campo e cominci a raccogliere. Se ruoti così, prendi il via, è sempre bene qualche quintale in più, anche se magari dici io faccio l'orzo, vale poco, però rapporti a casa l'orzo. Dici io faccio il grano, faccio grano su grano, avevo il grano l'anno scorso, lo rifaccio stanno, mi costa 900 euro elettro produrlo, mi fa 20 quintali, mi vale 22 euro, ormai 500 euro, più la PAC. Cioè voglio dire, perché lavora fa? Quindi uno deve alternare le culture per far sì che il terreno del suo... E devi fare reddito, perché non si scampa con quello. Ti permette di avere una resa importante, una resa che fa reddito. Una resa che ti permette di vivere, cioè non che ti fa arricchi, non è che hai chissà cosa, è una resa che ti fa arricchi, insomma. Quindi il colza è una possibilità per allungare questo ciclo vitale del terreno. Noi, io non so, io c'avevo la foto degli albori, non so, Riccardo c'è una foto... Nostro regista, dopo la... C'è una foto che io ho fatto nel 2009, lui... Eccola qua, questa? Questa qui, questa c'è una data di fianco, questi sono gli albori del colza, perché stavamo provando il colza, stavamo provando culture alternative alla fine della bietola e quindi di conseguenza io già stavo cominciando a sperimentare su qualche azienda amica con successo il colza. Poi ci siamo perfezionati, quindi di conseguenza noi non siamo rimasti statici, abbiamo scelto varietà, varietà comunque sia selezionate, non OGM o altre, selezioni naturali, in croci fra colza. e alla fine siamo arrivati a delle produzioni soddisfacenti. Anche di 40 quintali ad ettaro, io adesso non voglio esagerare di più perché se te vai sulla zona degli Esi, che lì pianti sulla torba, è chiaro che arrivi a 50 quintali ad ettaro. È chiaro che se vai su in montagna te ne fai 25, 27, ma se fai il grano non è che raccogli di più, quindi di conseguenza non hai ruotato la terra e non hai raccolto il grano. Un'altra caratteristica del colza che non è da trascurare, visto che siamo invasi dai cinghialotti, che sono buonissimi, anche se aumentano i trigliceridi, però sulle culture, se c'è il girasole, fanno una strage, ma se c'è il colza che amara come pianta, il cinghiale non ce l'ha. O se anche fa delle strade, o altro, il colza chiude molto, chiude, quindi praticamente diventa una pianta inappetibile per ciò che riguarda il cinghiale e quindi di conseguenza diventa molto, molto, molto interessante. Quindi fa reddito il colza? Il colza fa reddito, ma fa reddito anche a lungo termine, perché fa reddito per il colza, fa reddito per il grano dell'anno dopo, fa reddito per l'orzo dell'anno dopo, fa reddito per il girasole dell'anno dopo, perché hai ruotato la cultura. E in più c'è anche un potere di insetticida il colza. Anche? C'è anche un potere di insetticida già, quindi di conseguenza non trascuriamo il fatto che quella colza che tu vedi alle spalle, quella lì, è anche una pianta mellifera, cioè le api ci vanno, è rotta da collo. Infatti il problema di quest'anno degli apicoltori, leggevo e sentivo qualcuno di loro, è che il girasole, il mais, è monovarietale e quindi non produce i girasole, ci sono le varietà di girasole e gli api non ci vanno. Non ci vanno, esatto. Qua si riempa le api. E infatti il problema del colza, non voglio mettere troppa carne al fuoco, però a livello del bottone fiorale, prima che fiorisce, perché non si può trattare assolutamente in fioritura, ci sono dei insetticidi abbattenti che eliminano il meligete, se c'è, perché non è detto che ci sia, dopo di che il trattamento del colza è finito. Cioè puoi aspettare la fine della fioritura, vedi, però le spese sono ridotte al minimo. Al minimo. Sono ridotte al minimo e comunque sia paesaggisticamente parlando, per me è uno spettacolo vederla. Quindi il colza, riassumendo, fa bene al contadino, fa bene alla terra, fa bene alle api, perché aumenta la loro impollinazione, tiene lontani i cinghiali, fa fare un reddito discreto al contadino, insomma, è una specie di manna la colza. Ma non hai finito. Ah ecco, ci sono anche altre cose. Due, trecentomila vetture in Italia vanno a biodiesel, fatto quel colza. È chiaro che non ci basterebbe, è chiaro che non basterebbe tutto alla colza dell'Italia con 34 milioni di ettari, cioè ci vorrebbero 34 milioni di ettari per soddisfare il fabbisogno del diesel nostro, perché il diesel è nato, il signor diesel, quando ha fatto il diesel, ha usato la colza, non è che ha usato il petrolio minerale, quindi di conseguenza, adesso, per avere il fabbisogno, noi adesso, allora, ogni ettro di colza butta fuori 850 kg di gasolio, diciamo, e da raffinare naturalmente, o altro. Una macchina ne consuma una tonnellata, 10 quintali, quindi non ci basterebbe, ma se importiamo il petrolio nulla toglie, che possiamo importare anche la colza, perché visto che l'India, la Cina e la Germania, paesi del nord Europa, fanno solo colza, e sono molto esperti su queste robe qui, l'Inghilterra, e quindi, però noi abbiamo selezionato queste cose, questi semi, e abbiamo ottenuto delle rese soddisfacenti. Per esempio, l'anno scorso, non faccio nomi, ma ho amici, Roberto Vesprini, da San Costanzo, si è permesso l'anno scorso di trebbiare, lui, trebbiatore, non era il padrone, quindi non c'aveva motivo di sparare la cifra, 40 quintali ad ettaro, lì a Cento Croci, a me mi ha riempito d'orgoglio, perché queste le produzioni, cioè c'è una forbice di produzione in base a come sei, è chiaro che un occhio di riguardo ci vuole, perché tu quando fai il colza, la devi rullare prima la terra, e la rullatura fatta prima della terra significa che la profondità del semi deve essere omogenea, la germinazione dei semi deve nascere tutti uguali, perché se uno va sotto e uno va più sotto, uno va più in cima, succede che quello che nasce dopo, quando vanno a fiorire ad aprile, uno ha fiorito e l'altro no, quando i primi di giugno è quello il periodo in cui si toglie il colza, la vai e la vai, ce l'hai verde, e quindi c'è dell'umidità alta, perché la base colza, la base della colza è 9,2, cioè 9 di impurità e 2 di umidità, ma ci si arriva sempre, ci si arriva. Comunque il terreno va preparato in un certo modo per avere una resa ottimale. È una cultura tecnica, però se noi consideriamo che facciamo il trifoglio, quest'anno c'è andato giù molto trifoglio da seme, e ha reso abbastanza bene, e anche l'anno scorso ha reso bene, il trifoglio è una bella cultura, non è leguminosa, però non bisogna fossilizzarsi su poche culture, perché vanno differenziate, perché il trifoglio è una cultura che fa 9, 10, ha fatto anche 15 quintali quest'anno, ha un buon prezzo, ma il trifoglio può fare anche un quintale a lettero, o due quintali a lettero, la fonte, questa è la Bayer, la fonte è Bayer, quindi se due o tre anni va bene, non è detto che il terzo anno vada bene, allora io dico, giriamo, e certo, io converto tutta l'azienda in trifoglio, spendo poco, non gli do il concimo, non gli do niente, e poi due quintali a lettero, e dopo chi paga le bollette? Quindi va differenziato in due, tre, quattro culture. E il colza è un'alternativa a questo? Il colza è un'alternativa, intanto la levi i primi di giugno, e quindi già hai separato, poi dopo te levi l'orzo, eventualmente, poi te levi il grano, poi dopo levi il trifoglio, cioè c'è di riscalare la roba, può scapire anche una grandinata, e poi c'è anche il mercato, giusto? Mi parlavi appunto degli utilizzi del colza, anche a livello di trazione, quindi insomma, chi coltiva colza ha possibilità di mercato. A livello di trazione, infatti, adesso, c'è stata un po' di speculazione, ma siamo sui 35 euro, adesso non lo so, perché il direttore non è scappato con i prezzi, ma siamo sui 35 euro, però è stata anche 45 euro il colza, negli anni, e c'è anche la possibilità di chi fa il colza di sfruttare il MATIF, che è l'indice di Parigi, dal MATIF meno 3 euro, più IVA, se può vendere, volendo, anche a luglio, per dire, non c'è bisogno che aspetti la chiusura del consorzio o di chi ti pare, dice, ma dici quant'è il MATIF? No, basta che te lo guardi, te guardi il MATIF e vedi che... Il MATIF sarebbe un indicatore di prezzo? Sì, praticamente ti dice un anno prima quello che sarà. Ah, è che è un indice predittivo? È un indice, sì, è un indice che tu ti dice tu puoi farla o altro, però secondo me è una cultura da... Se nessuno mai... Se non approcciano i ricoltori a delle culture alternative, fanno la fame. Fanno la fame. Come si fa ad accedere a questo tipo di coltivazione? È facile? Cioè, il contadino come fa per ruotare? Allora, intanto la preparazione del terreno è semplice anche perché quest'anno la terra è tempera non è asciutta e quindi basta un'erpice trotante e sei a posto. Poi dopo o chiami i tecnici nostri del consorzio che c'è una visita sul campo e ce l'hai gratuita oppure chiami a me o c'ho anche il collega Mirko Clini che dopo vedrete il numero di telefono suo e altro che risponde sull'Alto Pesarese e c'è un tanto bisogno di fare quel lavoro sull'Alto Pesarese perché se non girano la terra Quindi basta una consulenza vi richiedono una consulenza e voi fate una visita in loco è il lavoro nostro facciamo una consulenza gratuita andiamo lì poi dopo guardiamo le galline guardiamo la pianta guardiamo tutti ma siamo domestiere ma sì noi siamo dei tecnici non siamo venditori puri insomma noi siamo tecnici di una cooperativa che fanno il servizio della cooperazione cioè facciamo siamo al servizio degli agricoltori e se avete bisogno chiamateci non vi costiamo nulla e vediamo un'occhiata e amen Senti Saulo però la puntata della volta scorsa questo è stato un approfondimento molto tecnico ma ci hai portato delle foto per far vedere qualcosa io ve le avevo mandate le foto perché ero soddisfatto vi avevo mandato le foto venti giorni fa o quindici a Riccardo adesso chiediamo Riccardo hai imboscato le foto o ce le fai vedere così vediamo le foto eccole oh questa è una è una foto che ci hai mandato qui la pianta però è questa del peticchio d'arcevia un amico mio Giuliano Giuliano Betti mi ha mandato da questo cliente perché sapeva che faceva sta endoterapia guarda la pianta quella dietro sullo spigolo destro guarda quella è verde quella in fondo tu guarda quella sulla destra questo era secco questo qui era completamente secco questo olmo ma questo è un olmo da 100-120 anni dopo ci sono le bottigliette che ho ficcato giù io vedi e questa è stata fatta io credo ce l'ho sul telefono ma credo il 20 giugno questa del 25 giugno o luglio praticamente questa qui è 25 giorni dopo e se notate quello che era prima verde è secco è diventato secco e quella è la capanna di riferimento che c'era dietro a quello prima se la puoi fare mandare indietro quella è la capanna di riferimento quella è la pianta secco ecco quella è la pianta di riferimento e quella è la pianta verde e invece dopo 25 giorni la pianta è diventata secca quella in fondo e invece questa qui ha cacciato fuori dopo io perché questa qui dopo io in aprile vorrò rifare la trasmissione perché sono rimasto talmente contento e soddisfatto allora in aprile ci porti la foto quella lì ma sì non questa la porto migliorata mi porti la foto ad aprile di questa pianta io la voglio triennale capito io non ti posso dico fatto 10 piante quest'anno io al minimo ho fatto sopra 100 piante e se ne ho fallite uno o due perché mi ha ributtato il liquido l'ho vista quindi non forse perché l'hai presa un po' in ritardo ma manca mai quando mi chiamano io non so io però la vedo subito io come faccio subito la miscelotta mia io vedo subito come è andata la cosa però mi ha riempito d'orgoglio va bene Sauro allora se volete rivedere la puntata dove parlava appunto di quegli interventi per chi magari non l'avesse vista è sul nostro canale youtube c'è la puntata di Sauro dove parla proprio di quegli interventi invece in questa puntata con Sauro abbiamo parlato di culture di rotazione utili alla campagna utili ai nostri agricoltori per fare anche reddito in modo particolare ci ha parlato Sauro del colza che è un'alternativa al mais al girasole al girasole una rotazione più lunga e c'è buon reddito buona possibilità di reddito vogliamo ripetere questo concetto perché è utile saperlo allora il reddito quest'anno ha reso intanto il grano quest'anno ha reso il 20% in meno rispetto agli altri anni e ha preso più il colza che il grano quest'anno come 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 PLV produzione rurda vendibile non dappertutto l'importante è la rullatura prima della semina e dopo la semina ma se contattate i tecnici anche telefonicamente dopo vedete voi siamo competitivi sia col prezzo sia alla vendita che all'acquisto cioè ormai non è che stiamo monopolizzando monopolizzando il mercato però perché voi curate anche l'acquisto della cosa poi una volta che il contadino cioè tu vedi noi dal 2009 che stavamo facendo queste prove anche dal 2008 io dopo la foto ci ho pensato dopo perché io era il 2007 veramente che la stavo facendo e la stavo provando solamente che prima del passato onto volevo vedere come andava poi quando mi sono trovato in mezzo a Stoccolzoni io sono uno il santozze zompo della serie ma quando l'ho vista alta così ti passava sopra perché è alta dopo quello dipende dalla stagione però cioè anche i grani i tuoi grani in anno te lo vedi qui a che altezza arriva qui le piante a che altezza sono queste saranno alte 1,70 1,80 però dopo qui lino dipende anche dal dipende anche dalla fittezza della semina perché se tu la mandi se tu la metti troppo fitta perché paura che non te nasce o altro quella va in alto una cosa obbligatoria sul Colza è appena seminato un'antilumaca resistente all'acqua né che costa poco né che resistente all'acqua perché tanto le lumache la fanno fuori cioè prendono la fila la perdi la cultura quindi non piace ai cinghiali ma piace alle lumache un'altra un'altra cosa volevo dire no volevo finire adesso non so forse ho sforato il tempo quando si semina il Colza ci vuole un geodesinfestante il teflustare una miscela di veleno non è un veleno tossico c'è concime veleno gli dà un effetto starter perché c'è lo zinco e c'è un qualcosa che mangia gli erateridi che sono degli spaghettini che la fanno fuori in l'antilumaca e l'antilumaca subito e a tutto campo se uno vuole spendere poco prende l'antilumaca allunga con un pochino di concime per fosfato o altro e va a pieno campo deve andare a pieno campo obbligatoriamente resistente all'acqua in modo che se gli piove tanto comunque a settembre ottobre piove non fugge e questo è il suo duco e questi sono consigli tecnici comunque che magari date voi sul luogo però se magari l'agricoltore chiede ma perché dopo per trebbiarla o altro la trebbiatura va fatta da notte non si trebbia come il grano del giorno e vedrete che chi fa colza ripete il colza chi fa colza la ripete per chi la ripete bene quindi Sauro ci ha parlato di aspetti molto tecnici molto mirati ai nostri amici ascoltatori agricoltori però Sauro è un pozzo di scienza per le piante avete visto cosa ci ha portato la volta scorsa e prossimamente parleremo anche di altre piante perché insomma Sauro è appunto un tecnico fitoiatra per cui le conosce a mena dito insomma il consorzio agrario di Ancona se lo tiene stretto stretto perché è un tecnico appassionato di grande di grande coinvolgimento e quindi insomma si vede che metti l'amore la passione in tutto quello che dici quello sicuro va bene allora Sauro grazie per essere stato con noi quindi cari amici agricoltori pensate al colza quando volete ruotare le vostre coltivazioni bene grazie grazie Sauro grazie amici ascoltatori agricoltori e non ai prossimi approfondimenti ciao ciao a tutti